Ultima giornata di vaccinazioni a Teramo capoluogo per gli over 80. 3.000 complessivamente gli anziani che riceveranno il vaccino anti-covid. Le operazioni di accettazione all'interno dell'ipogeo si sono svolte con estremo ordine, il tutto coordinato dalla protezione civile. La macchina ha funzionato alla perfezione, l'agenda è rimasta soddisfatta sia per la tempistica che per la disponibilità anche del personale sanitario. Non abbiamo appunto avuto le file, i nostri nonni sono stati contentissimi e devo dire che i numeri ci hanno dato ragione, c'è stata una grande adesione e una grande partecipazione. E adesso la protezione civile come continua questo suo ruolo? Continuiamo a dare il nostro supporto, adesso ci sposteremo da Teramo, andremo anche negli altri comuni dove si svolgerà questa campagna, continueremo a dare il nostro supporto alla cittadinanza e a vari colleghi delle altre sezioni sparse nella provincia di Teramo in questo caso. Nella quinta ed ultima giornata di vaccinazione per gli ultraottantenni del capoluogo aprutino mancano all'appello solo gli anziani allettati, che saranno raggiunti nei prossimi giorni dagli operatori sanitari dell'asla di Teramo. Questi soggetti verranno recuperati successivamente, non posso dire come e quando, perché questa non è una competenza mia, è un'organizzazione che va fatta anche in funzione delle dosi disponibili di vaccino. Lei è ottimista, dottore? Io sono molto ottimista e sono contento che comunque da ieri abbiamo un'accelerata alla campagna vaccinale. Mi auguro che si partirà subito anche con la vaccinazione di massa, anche perché in questo trimestre dovrebbero arrivare diverse dosi disponibili. C'è un elemento che colpisce nel vedere riuniti tanti ultraottantenni teramani nella sala dell'ipogeo in fila per vaccinarsi. Sono pochi quelli che arrivano accompagnati. Molti di loro si presentano da soli, curati nell'abbigliamento e compilano senza difficoltà il modulo all'entrata. Insomma, una categoria di persone che sembra essere in ottima forma.